Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, oggi sono qui per continuare la nuova rubrica della domenica sulla lettura del piccolo principe, non so se questa inquadratura, forse mi avvicino, vediamo se mi avvicino con me, forse è un po' meglio, oggi leggeremo insieme per i tre capitoli, abbiamo letto nello scorso video i primi tre, i primi tre, 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 allora comincerei subito con il prendere il nostro meraviglioso libro, comincerei subito 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 a leggere i capitoli, ora, volevo anche dirvi che ho acquistato ieri i leoni di Sicilia, ho cominciato a leggere il primo capitolo, è davvero molto 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 appassionante come libro, ho lasciato sui una storia, chiedendovi, ecco, se potesse piacervi, potesse interessarvi, leggere insieme anche quel libro, quindi ho pensato bene che appena terminiamo il piccolo principe, mi piacerebbe tanto, 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 continuare con i leoni di Sicilia, così ha preso una seconda notizia molto importante, il suo pianeta di origine era appena più grande che una casa, questo non avrebbe dovuto stupirmi più di tanto, sapevo bene che a parte alcuni grossi pianeti come la Terra, Giove, Marte, Venere, ai quali si sono dati dei nomi, ce ne sono centinaia di altri, che sono a volte così piccoli che si può vedere solo a fatica con il telescopio, quando un astronomo ne scopri uno, per nome gli assegna un numero, per esempio l'opattezza asteroide 325, 325, 325, 325, guardate che belle immagini, ho seri motivi per ritenere che il pianeta da cui proveniva il piccolo principe fosse l'asteroide B612612, questo pianeta è stato osservato al telescopio una sola volta, nel 1909, da un astronomo turco, a quei tempi avevo reso pubblica la sua scoperta durante un congresso internazionale di astronomia, ma nessuno gli aveva creduto per il modo in cui era vestito, gli adulti sono fatti così, funzionatamente per la reputazione dell'asteroide B612, un dittatore turco imposa a tutta la popolazione, appena la morte, di vestirsi all'europea, l'astronomo ripetà la sua dimostrazione nel 1920, con indosso un abito molto elegante, e questa volta tutti gli diedero ragione, se vi ho raccontato questi dettagli dell'asteroide B612, e se vi ho rivelato il suo numero, è per via degli adulti, gli adulti amano i numeri, quando parlate loro di un nuovo amico, non si informano mai sull'essenziale, vi chiedono qual è il tono della sua voce, quali giochi preferisce, collezione a farfalle, invece vi domandano, quanti anni ha, quanti sono i suoi fratelli, quanto pesa, quanto guadagna suo padre, solo così credono di conoscerlo, se raccontate agli adulti, ho visto una bella casa di mattoni rosa, con dei gerani davanzali, le colombe sul tetto, loro non saranno in grado di immaginare questa casa, bisogna dire, ho visto una casa da centomila franchi, allora esclameranno, bella, quindi se dite agli adulti, la prova che il piccolo principe è esistito, è che era affascinante, che rideve, che desiderava una pecora, desiderare una pecora è la prova che esiste, scrolleranno le spalle e vi tratteranno come un bambino, ma se affermate il pianeta da cui proveniva è l'asteroide B12, allora gli adulti ne saranno convinti e vi nasceranno in pace, sono fatti così, non bisogna avercelo con loro, i bambini devono essere molto indulgenti con gli adulti, ma per noi che conosciamo la vita, i numeri non contano niente, avrei voluto iniziare, avrei voluto iniziare questa storia come cominciano le fiampe, mi sarebbe piaciuto dire, c'era una volta un piccolo principe che abitava un pianeta, che abitava un pianeta appena più grande di lui e che aveva bisogno di un amico, per coloro che capiscono la vita questo sarebbe suonato molto più vero, la verità e che non amo che si legga il mio libro superficialmente, provo molto dolore a rivelare questi ricordi sono già sei anni che il mio amico se n'è andato con la sua pecora e se provo a descriverlo è per non dimenticarlo, è triste dimenticare un amico, non tutti hanno avuto un amico e io potrei diventare come gli adulti che non si interessano più ad altro che ai numeri, è per lo stesso motivo che ho comprato una cascatola di colori e delle matite, è dura rimettersi a disegnare alla mia età, quando gli unici tentativi fatti sono stati un boa al di fuori e un boa al di dentro l'età di sei anni, tenterò comunque di fare dei ritratti il più possibile somiglianti, ma non sono assolutamente certo di riuscirci, un disegno magari potrà venire bene e quello dopo no, potrei sbagliare anche le dimensioni, qui il piccolo principe è troppo grande, là invece troppo piccolo, esito anche sul colore del vestito, dunque procedo attentoni, bene o male, insomma mi ingannerò sui dettagli ancora più importanti, ma dovrete perdonarmi, il mio amico non dava spiegazioni, forse mi credeva simile a lui, ma io purtroppo non ero in grado di vedere le pecore attraverso le casette, probabilmente solo un po' come gli adulti sono stato costretto ad invecchiare, quinto capitolo, ogni giorno veniva a conoscenza di qualche nuovo dettaglio sul pianeta, sulla partenza, sul viaggio, ciò accadeva per caso a seconda delle nostre riflessioni, è così che il terzo giorno veni a sapere del dramma di Paobab, ancora una volta fu merito di una pecora, poiché all'improvviso il piccolo principe, come se fosse stato colpito da un grave dubbio, mi chiese, è vero che le pecore mangiano gli arbusti? Sì, è vero, ah, sono felice, non capivo perché fosse così importante che le pecore mangiasse gli arbusti, ma il piccolo principe aggiunse, quindi mangiano tutti i Paobab, faccio osservare al piccolo principe che i Paobab non sono arbusti, ma alberi grandi come chiese e che, anche se si fosse portato dietro un intero branco di elefanti, non sarebbe stato in grado di avere la meglio su un solo Paobab, l'idea del branco di elefanti, faccio ridere il piccolo principe, bisognerebbe sistemarli gli uni sugli altri, poi osservo assaggiamente, prima di diventare grandi anche i Paobab sono piccoli, giusto, ma perché vuoi che le tue pecore mangino dei piccoli Paobab? Ma è ovvio, mi rispose come se si trattasse di una cosa evidente e dovetti fare un grande sforzo di intelligenza per capire da me il problema, infatti sul pianeta del piccolo principe si trovavano, come su tutti i pianeti, erbe buone ed erbe cattive e di conseguenza buoni i semi di erbe buone, i cattivi i semi di erbe cattive, ma i semi sono invisibili, dormono nel segreto della terra fino a quanto a uno di loro viene voglia di risvegliarsi, allora si sgranchisce e inizia timidamente ad allungare verso il sole un incantevole piccolo fuscello, si tallare in offensiva, se si tratta di un ravanello o di una pianta di rosa, la si può la si può far crescere quanto si vuole, ma se si tratta di una pianta cattiva bisogna straticarla appena la si è riconosciuta, ora c'erano dei pessimi semi sul pianeta del piccolo principe, erano i semi di Paobab, il suolo del pianeta ne era infestato ed è molto difficile sbalazzarsi di un Paobab se non ci si muove in tempo, può arrivare a incontrare tutto il pianeta e a perforarlo con le sue radici e se il pianeta è troppo piccolo i Paobab o sono troppo numerosi, finisco proprio a distruggerlo, è una questione di disciplina mi disse più tardi il piccolo principe la mattina, una volta finito di lavarsi bisogna preoccuparsi di pulire il pianeta, bisogna impegnarsi regolarmente per straticare i Paobab per una pena li si riconosce in mezzo alle piante di rosa, che sono molto simili quando spuntano, è un lavoro davvero noioso, ma facilissimo, e un giorno mi consigliò di realizzare proprio il disegno per far capire bene la faccenda ai bambini del mio pianeta, se un giorno viaggeranno potrà essere loro utile, a volte rimandare il proprio lavoro non comporta inconvenienti, ma quando si tratta di Paobab è sempre una catastrofe, conoscevo un pianeta abitato da un pigrone, aveva trascurato tre arbusti, seguendo le indicazioni del piccolo principe ho disegnato quel pianeta, non amo assumere un tono da moralista, ma il pericolo dei Paobab è così poco conosciuto, e i dischi che si corrono capitando su un asteroide sono così considerevoli, che per una volta sono costretto a fare un'eccezione, e dico bambini, fate attenzione ai Paobab, se ho lavorato così tanto a questo disegno è per mettere in guardia i miei amici da un pericolo che hanno a lungo sottovalutato, guardate che bel disegno anche qui, è falsa la pena di aver faticato tanto per una lezione così importante, forse vi domanderete per quale motivo non ci sono in questo libro altri disegni grandiosi come quelli dei Paobab, la risposta è molto semplice, ci ho provato ma non ci sono riuscito, quando ho disegnato i Paobab ero animato da un reale urgenza, guardate oh piccolo principe, così ho capito poco a poco la tua piccola vita malinconica, per molto tempo non hai avuto altra distrazione che la dolcezza dei tramonti, ho appreso questo nuovo particolare la mattina del quarto giorno quando mi hai detto, mi piacciono tanto i tramonti, andiamo a vederne uno, ma bisogna aspettare, aspettare cosa? Che il sole tramonti, all'inizio sembravi molto stupito e poi hai rito di te stesso e mi hai detto, penso sempre di essere a casa mia, infatti quando è mezzogiorno negli Stati Uniti il sole come tutti sanno tramonta sulla Francia, basterebbe riuscire ad arrivare in Francia nel giro di un minuto per assistere al tramonto, sfortunatamente la Francia è troppo lontana, invece sul tuo pianeta così piccolo ti bastavo a spostare di qualche passo la sedia per ammirare il crepuscolo ogni volta che lo desideravi, un giorno ho visto il sole tramontare 44 volte e dopo un po' è aggiunto, sai quando si è molto tristi si amano i tramonti, perciò il giorno nelle 44 volte eri molto triste, ma il piccolo principe non rispose ragazzi io leggerei anche la settima, il settimo capitolo quindi leggerei 4 perché il sesto era molto 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 piccino, quindi questa volta andiamo di 4 capitoli, il quinto giorno sempre grazie alla pecora mi fu rivelato questo segreto della vita del piccolo principe, mi domandò bruscamente e senza preamboli, come se si trattasse del frutto di una lunga e silenziosa meditazione, una pecora se mangia gli arpusti mangia anche i fiori, una pecora mangia tutto ciò che trova, anche i fiori con le spine, sì, anche i fiori con le spine, allora a che servono le spine? Non lo sapevo, in quel momento ero assorbito dal tentativo di svitare un bullone troppo stretto del motore, ero preoccupato perché il questo iniziava a sembrarmi molto grave e l'acqua da bere che stava finendo mi fece tramare di peggio, a che servono le spine? il piccolo principe non rinunciava mai alla domanda una volta che l'aveva fatta, io ero irritato dal mio bullone e mi buttai lì, le spine non servono a nulla, è pura crudeltà da parte dei fiori, ma dopo aver taggiato per un po' reagì con un certo risentimento, non ti credo, i fiori sono fragili, sono ingenui, ti fanno coraggio come possono, si credono terribili con le loro spine, non replicai nulla, in quel momento mi dicevo, se questo bullone resista ancora lo farò saltare a colpi di martello, il piccolo principe mi distrasse ancora una volta dalle mie considerazioni, e tu, tu credi che i fiori? ma no, ma no, io non credo nulla, l'ho detto tanto per dire, mi occupo di cose serie io, mi guardò stupefatto, di cose serie, mi vedeva con il martello in mano e le dita sporche di morchia, chi non so un oggetto che domanda, doveva sembrargli molto brutto, parli come gli adulti, questo mi fece un po' vergognare, implacabile, lui continuò, tu confondi tutto, mischi tutto, era veramente molto irritato, scuoteva il vento i suoi capelli dorati, conosco un pianeta dove abita un signore sempre rosso di rabbia, non ha mai annusato un fiore, non ha mai guardato una stella, non ha mai amato nessuno, non ha mai fatto nient'altro che delle addizioni, e tutto il giorno ripete come te, io sono un uomo serio, io sono un uomo serio, e questo lo fa con fiore d'orgoglio, ma non è un uomo, è un fungo, che cos'è un fungo? adesso il piccolo principe è diventato tutto palido per la collera, da milioni di anni i fiori producono le spine, ciò nonostante da milioni di anni le pecore mangiano i fiori, e non è serio cercare di capire perché i fiori facciano tanta fatica a produrre delle spine che non servono a nulla, non è importante la guerra delle pecore e dei fiori, non è più serio e importante rispetto alle addizioni di oro o omone, paunazzo, e se io conoscessi un fiore unico al mondo, che non esiste da nessun'altra parte, tranne che sul mio peneta e che una pecora, e che una pecorella può distruggere in un attimo, così una mattina senza rendersi conto di quello che fa, non sarebbe importante, a Rossi poi riprese, se qualcuno ama un fiore di cui non esiste che un solo esemplare tra milioni e milioni di stelle, per essere felice, basta che le guardi e ti dica, e si dica, il mio fiore è lì, da qualche parte, ma se la pecora mangia il fiore, per lui è come se da un momento all'altro tutte le stelle si spegnessero, e questo non è importante, non riuscì ad aggiungere altro, all'improvviso scoppiò insicchiozzi, era scesa la notte, avevo messo via gli attrezzi, non mi importava nulla del martello, del bullone, della sete, della morte, su una stella, o meglio su un pianeta, il mio pianeta, la terra, c'era un piccolo principe da consolare, lo presi dalle braccia e lo cullai, gli dicevo, il fiore che ami non è in pericolo, disegnerò una museruola per la tua pecora, disegnerò un'armatura per il tuo fiore, io non sapevo bene cosa dire, mi sentivo molt destro, non sapevo come arrivare fino a lui, in che luogo raggiungerlo, è talmente misterioso, il paese delle lacrime, io ragazzi termino qui, questa bellissima lettura, abbiamo letto il capitolo 4, il capitolo 5 e il capitolo 10, il capitolo 4, 5 e 7, come sempre vi ringrazio, e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ciao